Noi siamo alla quinta edizione, come associazione italiana sommelier, delegazione di Pescara avevamo pensato nel 2019 di dare un segnale che un prodotto di nicchia potesse diventare un prodotto importante. All'inizio tutti furono scettici, però la realtà è che dietro la bollicina c'è un consumo in crescita, un vino sicuramente più leggero e più accattivante di tutto quello che c'è comunque in giro e che comunque funziona. Lo spumante di Abruzzo, se ci credono e come ci hanno creduto, possa dare anche delle soddisfazioni importanti in fatto di penetrazione di mercato. Infatti ultimamente si registrano anche delle belle performance di esportazione. Abbiamo delle news con la presentazione della doc trabocco, quindi spumanti trabocco. e con la sua tipologia di vitigni autoctoni, saranno in degustazione il 21, quindi sabato prossimo all'Aurum, dalle 18.30 alle 23 e più naturalmente tutti gli altri sia metodo classico, abruzzesi che metodo Martinotti.